forza italia siederà al tavolo con spirito costruttivo ascoltiamo i contenuti dice il leader della lega ma per fratelli d'italia non ci sono alternative a un governo non eletto con draghi parleremo di lavoro di taglio di tasse di taglio di burocrazia di riapertura di cantieri e chiederemo un confronto sui progetti dice matteo salvini ai microfoni dei cronisti in vista delle consultazioni con il premier incaricato che si svolgeranno tra oggi e sabato il confronto sarà sui temi veri e sono curioso per la lega la scelta più comoda sarebbe quella di dire no perché la via maestra sono le elezioni ma per rispetto e per il bene del paese ascolteremo il professor draghi per antonio tagliani il confronto con mario draghi verso cui c'è apprezzamento avverrà con uno spirito costruttivo vedremo i contenuti dice il vicepresidente di forza italia che ricorda come silvio berlusconi si sia speso per la nomina di draghi alla banca centrale europea ma le posizioni possibiliste di lega e forza italia devono confrontarsi con la chiusura di fratelli d'italia la via maestra è quella delle elezioni dice ignazio la russa la meloni sta lavorando per tenere unito il centrodestra e di fronte alla nostra posizione che no a qualunque governo che non siano le elezioni è pronta a fare un passo intermedio se anche gli altri lo faranno a stensione di tutto il centrodestra e poi insieme in un'opposizione patriottica conclude il senatore di fdi significa la fine dell'unità del centrodestra no il centrodestra è forza di governo in tre quarti del paese dice salvini cerchiamo di fare in modo che questo centrodestra resti coeso aggiunge tayani